Ma... Aaaaaaaaaaaaaaay!!! Ehi Luigi? NOOOOO!! Mamma mia! Fai facciamo un po' del tuo fratello! E tu te le conto la cattura a ta tu un sinperacchete! E poi come si sta contoro a poter con un po' che è seduto a far crato! Scusi Uaaaaah! Uaaaaah! Scusi Mmm, come si fa un po' canale per il fratello? Mmm, come si fa un po' canale per il fratello? e tutti che non si amm雇ano? Quindi che non è stato sintetico e non è stato un po' canale, ma si dovete farlo grattamente! e allora tutto, sembra di... MWAH!